Il terzo derby della capitale stavolta lo vince la Roma, dopo che i primi due erano finiti, il primo con un pareggio in Serie A, il secondo con la vittoria della Lazio in Coppa Italia, stavolta è la squadra di Daniele De Rossi a vincere il suo primo derby come allenatore e porta alla Roma tre punti che sanno davvero tanto di Europa e quelli dell'Europa pesante. Benvenuti a tutti ragazzi da Frantuf, pieni di guardare i video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto che stiamo correndo verso i 500 iscritti, vi ringrazio per il supporto. Grande partita estremamente spigolosa come è giusto che sia e come al solito tra Roma e Lazio, una partita con tanti tanti falli, con tanti interruzioni, gioco molto spezzettato ma questo è il derby di Roma, si sa al mille per mille, giocare spettacolari poche, pochissime. La Roma riesce a portarsi a casa questa partita grazie ad un ottimo primo tempo e secondo me grazie anche a qualche errore di formazione da parte di Tudor che si è presentato in campo con una formazione titolare a mio avviso sbagliata e si è visto sin da subito perché si è vista poi la differenza quando Tudor ha fatto i cambi nel secondo tempo perché è un qualcosa che è stato talmente tanto palese che la Lazio avesse delle difficoltà nel primo tempo che è stato praticamente per tutto il primo tempo messo in grandissima difficoltà dalla Roma che ha creato di più, ha avuto più occasioni e riuscita a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini da calcio d'angolo perché questa partita si potrebbe sbloccare in qualche modo solamente da calcio d'angolo perché azioni belle, pericolose ce ne sono state ben poche, la Lazio ha rischiato più che altro nel primo tempo di farsi, più che subire il gol della Roma quasi di farsi autogol prima con Casale e poi con Ghila ma poi la Roma è riuscita comunque a passare in vantaggio a mio avviso in maniera meritata con Gianluca Mancini nel secondo tempo una Lazio sicuramente messa in campo meglio che ha cercato sicuramente, che ha messo in difficoltà la Roma, ha creato le sue occasioni non ha tirato tantissime volte in porta ma per imprecisione lì davanti perché la Roma comunque si è chiusa alla grande e la Lazio allo stesso tempo come è successo anche un po' con la Juventus ma stavolta il gol dal 93esimo non è arrivato non è riuscita a creare tante occasioni ad una difesa, schierata bene, che ha saputo resistere, che ha saputo soffrire e soprattutto nel secondo tempo, forse l'occasione più grande, l'ha avuta proprio la Roma per fare il 2-0 perché quel palo clamoroso colpito da Stefano e Sciarapi ancora sta tremando per il resto una Lazio sicuramente più compatta nel secondo tempo che ha messo sotto la Roma, che ha chiuso la Roma all'interno della propria metà campo con Castellano secondo me che ha fatto molto meglio rispetto a Cire Immobile che ha avuto una grande occasione nel primo tempo ma che non è riuscito a sfruttare, si è entrato Pedro, è entrato Patrick che hanno dato sicuramente spessore e anche dal punto di vista della cattiveria agonistica qualcosina in più alla Lazio che invece nel primo tempo sembrava troppo troppo smorta, hanno dato una differenza enorme dentro il campo però lì davanti la Lazio ha avuto come in tutto l'anno estrema difficoltà ad avere una continuità lì davanti a fare gol perché quando manca Cire Immobile, che quest'anno è mancato tantissimo alla Lazio e che probabilmente la Lazio non può più contare ormai sul suo capitano, sul suo giocatore simbolo di queste ultime stagioni perché quest'anno è stata un'annata estremamente negativa per Cire Immobile che ha confermato secondo me queste problematiche anche nella partita di oggi non è più il Cire Immobile che conosciamo, che abbiamo saputo anche apprezzare nel suo periodo top in cui faceva tranquillamente il capocanone del campionato ha fatto 36 gol e record di gol ma adesso è un giocatore che deve essere relegato in panchina a parte la Lazio non può più partire titolare allo stesso tempo però quando è entrato Castellanos lì davanti si è visto che sicuramente è un giocatore che corre che dà fastidio alla difesa ma allo stesso tempo ha anche delle qualità secondo me molto limitate e questo Castellanos secondo me l'ha sempre dimostrato all'inizio anno è un giocatore estremamente discontinuo ma anche la Lazio lo sapeva perché è un giocatore che il giorno prima fa 4 gol al Real Madrid e il giorno dopo non riesce a toccare una palla magari contro l'ultima in classifica in Spagna è un giocatore che non ti dà assolutamente sicurezza dal punto di vista della continuità e lì sotto porta lì davanti la Lazio ha avuto problemi quando manca Zaccagni la qualità comunque viene a mancare nonostante comunque anche la Roma dal punto di vista della qualità non è che abbia messo chissà quante grandi occasioni però alla fine cos'è che fa vincere la Roma? Il cross in mezzo di Paolo Di Bala un calcio d'angolo perfetto che arriva sulla testa di Mancini c'è sicuramente un errore da parte di Romagnoli ma il cross era talmente perfetto che Mancini non ha dovuto neanche saltare la palla è proprio finita sulla testa ed è una qualità che comunque alla fine ti paga perché alla fine Paolo Di Bala ha portato quell'assist alla Roma non ha fatto più grandi cose dal punto di vista offensivo oggettivamente mi è piaciuto anche non malissimo Romero Lukaku che comunque ha lottato lì davanti non è riuscito a crearsi comunque le occasioni da un giocatore del genere comunque ti aspetti che faccia un qualcosina in più ma per come adesso Romero Lukaku va bene anche il modo in cui è riuscito a difendere il pallone in modo in cui riuscirà in qualche modo qualche volta a far salire un po' la squadra a dare quell'assist perfetto a Stefano Sciarawi per il resto questo Romero Lukaku non è il Lukaku al 100% che abbiamo visto con l'Inter e si vede profondamente per il resto una Roma che come detto in fase difensiva si è riuscita a compattare alla grandissima con Svilar che non ha dovuto fare praticamente nessun intervento se non mi sbaglio la Lazio ha fatto solamente un tiro in porta ma molto facile da parare per Svilar per il resto poca poca roba una Lazio che come detto si è dimostrata per l'ennesima volta inconcludente e che in questi anni con nello stesso tempo a Lazio quest'anno non è che gli è mancato solamente Milinkovic-Savic dall'inizio dell'anno con la vendita di Milinkovic-Savic ma è mancato anche lì davanti l'apporto di un vero attaccante perché se negli anni scorsi come detto prima Immobile aveva fatto il fenomeno quest'anno Ciro Immobile invece diciamo che non ha assolutamente performato come gli altri anni e lo si vede praticamente ogni domenica ogni volta che Ciro Immobile va in campo è stata pessima la prestazione in Coppa Italia contro la Juventus e oggi è stato praticamente lì davanti ha avuto un'occasione per fare gol e non è riuscito a sfruttarla quelle sono le palle che Immobile nel suo prime avrebbe sicuramente messo in porta e invece l'ha tirata malamente fuori una Lazio che quindi rallenta dopo le due vittorie in campionato arrivate consecutivamente contro Frosinone e contro Juventus e che saluta forse definitivamente la possibilità di arrivare al quinto posto sempre sperando in un ipotetico passaggio del culo della Fiorentina in Conference che darebbe praticamente il 99% di possibilità al campionato italiano di avere il quinto posto in Champions la Roma allo stesso tempo si riavvicina prepotentemente al Bologna e alla Juventus perché in questo momento Roma è a 4 punti dalla Juventus e a 2 punti dalla Bologna con il Bologna che giocherà domani alle 12.30 contro il Frosinone e allo stesso tempo la Juventus che giocherà in casa con una partita estremamente complicata contro la Fiorentina una partita storicamente complicata per la Juventus contro la Viola che sicuramente non vorrà tralasciare nulla visto che in questo momento la Fiorentina è al decimo posto non è assolutamente una posizione che la Fiorentina merita in questo momento di occupare il derby quindi lo vince la Roma a mio avviso in maniera militata perché ha saputo capire perfettamente dei nostri momenti della partita è riuscita a passare in vantaggio nel primo tempo quando stava giocando meglio ed è riuscita comunque a soffrire anche con un po' di fortuna perché serve comunque, come ho detto praticamente sempre serve anche un po' di fortuna per arrivare a questi risultati la Roma alla fine anche con la fortuna è riuscita a vincere questa partita nel secondo tempo soffrendo e ha portato a casa tre punti che in questo momento pesano come un macigno la prossima Roma avrà una partita complicata a Udine contro l'Udinese allo stesso tempo la Lazio in questo momento deve pensare magari anche ad aggiungere un Europa League che a questo punto della stagione non sarebbe assolutamente da buttare fatemi sapere nei commenti un po' voi cosa ne pensate della partita non ci sono stati neanche troppe, a parte qualche rissa che però è all'ordine del giorno nei derby quindi non ci sono stati contatti da calcio di rigore, cartini rossi non mi sembrava ci fosse praticamente nulla per quanto riguarda il VAR fatemi sapere nei commenti se ho tralasciato qualcosa io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciare like, di commentare, di condividere il video di andare in descrizione veloce sarà il canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda gli assunti della serie A notizie di calciomercato, consigli su Fantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport noi ci vediamo con un prossimo video bella